Musica In occasione della prima domenica del mese, dove è possibile visitare musei e siti archeologici gratuitamente in tutta Italia, visiteremo il Museo Etnografico P3. Il Museo P3, oggi situato nella dependenza della casina cinese alla favorita, fu fondato nel 1909 da Giuseppe P3. Lo storico palermitano ed esperto della scienza folcloristica che visse a Palermo dal 1841 al 1916. Dopo la morte del P3, per decenni le collezioni rimasero inaccessibili, fino a quando il suo allievo Giuseppe Cocchiara, nel 1935, trasferì il museo nella sua attuale ubicazione, nel Parco della Favorita. Cocchiara diede a disposizione che fosse rispettata la volontà del maestro, sistemando gli oggetti seguendo il criterio dell'opera La Vita e l'Arte del Popolo Siciliano nel Museo P3. A suo interno si possono ammirare oggetti di varia natura, dai ricami agli attrezzi usati dai contadini siciliani, dalle testitrici, dalle insegne dei negozi, a scena di vita quotidiana dei siciliani di fine ottocento. Alle portantine e carrozze utilizzate dal senato palermitano. Ed una carrozza appartenuta alla famiglia nobiliare dei filangeri. Oggetti etifici di credenze popolari come l'uovo con gli ispiti, la noce a tre sezioni, maschere e oggetti votivi. Abiti da sera provenienti da Caltagirone e dipinti di ex voto. La Vita e l'Arte del Popolo Siciliano nel Paolo Siciliano nel Paolo Siciliano nel Paolo Siciliano. In due strutture separate ma attigue si possono visitare le cucine reali, dove all'interno sono state disposte le cucine reali. Oggetti utilizzati per cucinare. Il meccanismo simile a quello del trianon di Maria Antonietta è la tavola matematica. Infine si possono ammirare alcuni modellini dei carri del festino risalenti alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento. La nostra visita al Museo Fit3 termina qui. Come dal comunicato che si legge davanti al cancello, dal 7 settembre il Museo Fit3 rimarrà chiuso per via del nuovo allestimento che terminerà da quello che attualmente ci dicono ad aprile del 2016. Vi terrò aggiornate per quanto riguarda le novità. Continuate a seguirmi sui miei canali che sono YouTube, Vimeo, The Emotion e Your Reporter. Se avete delle feste o dei musei o dei luoghi che volete che io vada a riprendere fatemelo sapere o attraverso la mia mail che è michela.misuraca.it oppure attraverso i miei due profili su Facebook e su Twitter. Appuntamento alla prossima avventura. Ciao! Musica 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 Grazie per la visione!